Pietro Piccirilli, siamo alla Caserma Pasquali, spieghiamo esattamente dove siamo perché è un luogo interessante. Sì, ci troviamo nelle sale storiche del nono reggimento alpini della Brigata Alpina d'Aurinenza, un reggimento che tutti gli abruzzesi conoscono, composto anche in gran parte da cittadini abruzzesi, lago regionali, e questo è il luogo della memoria, un luogo fisico dove sono conservati ricordi, cimeli, documenti che rappresentano la storia, le imprese, i ricordi, le glorie passate e in parte anche attuali, di quello che sono non soltanto gli alpini del nono, anche dei vari reparti che si sono succeduti nella città dell'Aquila dal Regno d'Italia ai giorni nostri, dalla Costituzione del Regno d'Italia ai giorni nostri. A curare il museo siete voi stessi qui in Caserma, c'è un po' anche di passione oltre al dovere di farlo. Sì, possiamo dire solo passione. Io ho la fortuna di avere due collaboratori preziosi, il primo locotenente Pedro Alfano e il graduato aiutante Antonio De Bellis Cipriani, che mi danno non una mano, sono fondamentali. Io sono stato uno dei fondatori di queste sale storiche, insieme al primo locotenente Mauro Mancini, adesso in pensione, un amico, e siamo stati fra i fondatori di queste sale, mettendoci passione del nostro, anche parte delle nostre collezioni, ma queste sale vengono arricchite volta per volta anche dai reduci, dai veterani, dalle famiglie degli stessi, che lasciano cimeli, a volte armi, che vengono regolarmente disattivate da norma di legge, documenti di questi loro locali, perché non vadano perduti? Non c'è nulla di più triste che andare in un mercantino dell'usato e trovare, faccio un esempio, una medaglia al valore messa lì a pochi euro, che rappresenta una vita, un sacrificio, una storia. Cerchiamo di conservarle, cerchiamo di tramandare ai giovani l'idea che la storia non è qualcosa di iconico, di astratto, è reale, vive, a cui si può toccare, a cui si può vivere, si può respirare, si può interagire con essa. C'è un aspetto interessante, diciamo, delle varie sale, che non c'è solo l'equipaggiamento o le armi degli alpini, dei nostri alpini, ma ci sono anche gli equipaggiamenti delle forze di altri eserciti. Sì, per precisa volontà, perché noi siamo l'esercito, una delle forze armate dello Stato. Nell'esercito abbiamo la fanteria, la fanteria è la specialità alpina. Noi siamo alpini e siamo orgogliosi di esserlo. Ma è giusto ricordare tutti quelli che hanno dato il loro sacrificio, il loro contributo alla difesa della patria. Quindi abbiamo ricordo di molte persone, anche di eserciti stranieri, non solo armi italiane, abbiamo armi di tutte le nazioni che hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale, la Prima Guerra Mondiale, proprio per un ricordo di queste persone, che non sono numeri, sono persone, i soldati sono persone, che hanno lasciato ricordi, che hanno lasciato strascichi di dolore nelle famiglie. E questo è un luogo di ricordo anche per loro, ecco, perché sono visitati dalle scolaresche, da cittadini che vengono qui ad ammirare questi risultati, queste raccolte. E grazie anche a voi, alla vostra rete, che ci permette di dare questo messaggio. Ecco, le sale sono aperte, chi vuole venire, chi vuole partecipare, avvisando chiaramente, ma nessun problema a compiere questo viaggio storico, che vi assicuro non è tedioso, è interessante. Ci sono infiniti pezzi e sarebbe difficile stabilire a cui si è affezionato. Posso dirvi però una cosa, che grazie anche appunto ai collaboratori, che sono il primo donente Alfano e il graduato aiutante Cimilani De Bellis, sono stati fatti degli angoli in cui si vede come il soldato vive, mangia, si lava, vive la sua vita quotidiana, che non è fatto soltanto di scontri armati nella storia o grandi battaglie, è fatto anche del quotidiano, del tedioso lavoro di trincea, dello scambio epistolare con le proprie famiglie. Ecco, questi angoli mi commuovono sempre, perché dietro la storia vedi l'uomo. E questo è il fine di questa sale storica. Far capire che la guerra non è fatta soltanto di armi o di equipaggiamenti, è fatta da uomini e anche da donne. Nei giorni attuali sappiamo tutti che l'esercito professionale ha nei suoi ranghi sia uomini che donne. Un ultimo aspetto, ecco, diciamo, l'allestimento delle varie sale rappresenta un po' anche alcuni dei momenti storici più importanti vissuti dal paese, dagli italiani e dall'esercito. Spieghiamo un po' questo aspetto. Beh, si parte da un iniziale corridoio con la mostra di riproduzione di uniformi dal Settecento, quindi dal passaggio dal Ducato di Savoia al Regno di Sardegna e poi al Regno d'Italia. Ci sono le stanze divise in Prima Guerra Mondiale, Seconda Guerra Mondiale, Dopo Guerra e Missioni, fino ad arrivare ai giorni nostri con sale contemporanee di materiale equipaggiamento più recente. C'è la ricostruzione di un posto comando di battaglione in operazione Seconda Guerra Mondiale e speriamo in un prossimo futuro di ampliare queste sale inserendo altro materiale che ci viene, ripeto, continuamente donato grazie alla generosità dei pochissimi ormai reduci e dei familiari degli stessi. Per un collezionista c'è sempre un pezzo mancante, il sacro gralla di ogni collezione. Li recupereremo perché sono convinto che la costruzione di questi nuclei di cultura e di rinnovo dei fasti storici non abbia mai fine. Sono convinto che c'è sempre qualcosa da aggiungere. A me piace molto la documentazione, le foto e i documenti perché vedi le persone come erano. Ecco, mi è capitato di avere dei reduci centenari che sono andati qua dentro con la loro fotografia dei vent'anni. È stato un momento molto emozionante perché vedi una vita pericolosa, questa è gente che ha fatto cinque anni di guerra, non ce lo dimentichiamo, molti la prigionia, una vita pericolosa che giunge alla sua fine naturale, ma c'è il ricordo e la volontà di perpetrare nei giovani quello che è stato fatto affinché quello che è brutto non avvenga più. Ecco, questo mi colpisce sempre, le immagini, le immagini fotografiche. Come può fare il cittadino, una scolaresca o un gruppo, insomma, a contattarvi per visitare queste salle? Si passa l'andecasema Pasquale, si può chiedere al corpo di guardia, si può telefonare, il nostro numero è su tutti gli elenchi sui siti di internet, nono reggimento alpini dell'Aquila, dicendo siamo una famiglia, sono un cittadino, quando è possibile venire? Ci si mette d'accordo, in orario chiaramente di servizio, e noi siamo ben felici di mettere a disposizione della cittadinanza questa collezione, queste sale, che sono state fatte per la cittadinanza. Non è soltanto il ricordo dei reparti militari, lo sappiamo, lo conosciamo. È importante che la gente veda questi ricordi e si renda conto che la vita vissuta è quella delle persone, degli italiani.